Ha ammesso le sue responsabilità spiegando di non essere mai stata capace di opporsi alle richieste avanzate e riferendosi a Severino Antinori di aver sempre eseguito gli ordini. È la dichiarazione scritta depositata in appello a Milano da Bruna Balduzzi, la segretaria del medico con cui lavorava nella clinica Matris e con cui ora è a processo per il caso di prelievo forzato di ovuli a una infermiera a cui ha chiesto scusa e per traffico di ovociti. Per la prima volta viene confermata da un imputato l'ipotesi dell'accusa Bruna Balduzzi nella dichiarazione di responsabilità depositata stamane tramite il suo legale. L'avvocato Gino Perrotta ha spiegato alla Corte di essersi resa conto della gravità delle condotte contestate nei due procedimenti che in appello verranno trattati unitamente di non volere discolparsi e di ammettere le sue responsabilità. Mi dispiace davvero, ha aggiunto, precisando di non essere mai stata capace di opporsi alle richieste in clinica e di aver sempre eseguito gli ordini. Parole queste che, anche se mai lo ha nominato, si riferiscono a Severino Antinori, il ginecologo romano condannato in primo grado a sette anni e due mesi di carcere per il prelievo forzato di otto ovociti a una giovane infermiera spagnola che l'ha poi denunciato, vicenda per la quale la segretaria ex collaboratrice del ginecologo e l'anestesista Antonino Marcianò avevano preso cinque anni e due mesi. La missione di responsabilità della donna è stata depositata in vista di una richiesta di concordato in appello, in sostanza a un patteggiamento in seguito a un'intesa sulla pena e sul risarcimento con la procura generale, che però per motivi tecnici in questo caso non può essere concesso. Pure l'anestesista ha chiesto tramite il suo difensore di poter ricorrere al concordato in appello, dovrà essere perfezionato con il sostituto PG Daniela Meliota e ha annunciato pure lui il deposito di una dichiarazione di responsabilità. Per il caso di prolievo forzoso di ovoli avvenuto alla clinica Matris di Milano, il ginecologo venne arrestato nel maggio del 2016. Il dibattimento tratta anche la vicenda del presunto traffico di ovociti, per il quale Antinori era stato assolto dall'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di gameti per la procreazione assistita, così come la Balduzzi e altre persone.